Ciao ragazze, eccomi qui in un altro video vi avevo postato una foto su facebook si che su facebook, su instagram e vi avevo scritto sotto che avevo avuto appunto modo di fare alcuni acquistini da Zara e vi avevo chiesto se vi poteva interessare un video haul ed eccomi qua, video haul di Zara sono andata sabato qua a Firenze da me e ho trovato tantissime, cioè tantissime, si vabbè tantissime cose per i miei gusti e ve le faccio vedere allora, inizio subito da un vestito che puntavo da un bel po' che, vabbè, ho già indossato sabato sera perché lo volevo subito indossare perché mi piace tantissimo mi piace proprio anche la forma io l'ho pagato, ho buttato via il cartellino ovviamente perché indossandolo l'ho buttato via anziché 39 o 49 euro l'ho pagato 19,99 ed è questo vestito qua praticamente rosa con la manica praticamente a tre quarti e tutte queste non so se sono no orchidee non lo so, insomma, questi fiori blu blu e bianchi ed è praticamente dritto così e finisce con questo come si chiama? con questo con questa balza finale ed è un amore addosso cioè indossato è veramente molto molto carino vi farò un video outfit se lo volete vedere indossato fatemi sapere che vi faccio il video outfit magari di quello che avevo sabato sera io l'ho indossato con delle scarpe bianche sempre di Zara e una pochetta argento e quindi questo qua ora mi dispiace perché non riesco a farvi vedere bene comunque finisce dritto e poi ho subito questa balzettina in fondo che è carinissima ed arriva più o meno sopra il ginocchio e questo qua 19,95 poi ho affittato questi pantaloni che anziché 49,95 sono venuti 19,95 ho trovato un pantalone bianco yeah non è con chi strappi però mi piace lo stesso tantissimo ed è fatto aspettate che ve lo faccio vedere appurtonato così almeno capite meglio ed è fatto praticamente così ha queste cernierine ai lati così che però tra l'altro non so se si aprono no sono finte ha queste cernierine appunto ai lati ed è praticamente vedete arriva praticamente alla coscia con questo intreccio con questo elastico perché questo intreccio è elastico appunto vedete e va giù così con la cernierina e va giù sempre stretto a sigaretta e dietro alla cerniera in fondo e a me piaceva questo particolare perché richiama molto un po' le tute quelle da moto con le come si chiamano con le protezioni mi piacciono molto e dietro è semplicissimo con le taschine normali ed appunto semplice e finisce con la cerniera dietro sulla diciamo sulla caviglia ecco sul polpaccio molto molto carino e questo 19,95 poi ho trovato una gonnellina semplice non è niente di stravagante e anziché 25,95 l'ho pagata 9,99 ed è praticamente questa gonnellina così a vita alta grigia con l'elastico così in vita e sempre di quelle svolazzanti ed è di cotone credo sia ed è morbidissima ed ha appunto questa fantasia qua con queste righine queste cosine così 9 euro molto molto carina e dulcis in fundo credo sì questo paio di pantaloni che io puntavo da circa un anno penso sì da quando li ho visti prima che me li ho chiedate sì ho il trucco che avete visto nel tutorial perché ho registrato questi due video nello stesso giorno quindi sì insomma con questi pantaloni che seguivo da tanto tempo anziché 39,95 li ho pagati 14,99 quindi 62% di sconto dice qui e sono questi pantaloni militari carinissimi io li adoro vabbè comunque così con queste taschine così e vanno giù così hanno le tasche praticamente vengono al lato della coscia quasi altezza ginocchio si aprono quindi sono tasche vere cioè non è che sono finte cioè proprio è vera la tasca e poi finiscano così dritti e stretti stretti in fondo con questa linea centrale dov'è vedete e questa taschina qua laterale sono troppo carini e dietro sono semplicissimi con le taschine che finiscano dritti 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 questi io li adoro cioè indossati rendono molto più così non sanno di molto però le ho visti 14 euro e non potevo rinunciare a questo e quindi le ho visti e le ho presi e poi nient'altro questo era un po' il mio shopping pazzo da Zara e niente ho rossetto sedenti no ok meno male e questo era un po' il mio shopping pazzo da Zara ah aspettate vi faccio vedere le scarpe che avevo con quel vestitino che vi ho fatto vedere allora eccole qui sono sempre di Zara sono praticamente dei sandali bianchi con questo cinturino sul piede il tacco non è altissimo l'ho già provata sono comodissime e alla caviglia hanno praticamente la cerniera dietro ed hanno questo questa fascia in acciaio sì e sono sono bellissime cioè nel senso e sono queste qua e le ho indossate appunto con questo vestito qua e stanno benissimo e anche queste da Zara le trovate con lo sconto anche nere bianche e nere però le preferivo bianche e niente questo è tutto veramente io spero che questo video vi sia piaciuto o che comunque vi abbia strappato un sorriso o tenuto compagnia fatemi sapere anche voi con un commento se qualche cosina vi piace di più se avete acquistato qualche cosa uguale o insomma fatemi sapere tutto quanto e niente vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze